Nick che caspita stai facendo? Oh mio dio no niente non sto facendo niente Cosa? Allora io Perché è spawnata una catena Lì davanti? Ah non lo so Te lo sai? No E poi tu non voglio sapere cosa stavi facendo Comunque vabbè dai Non sto facendo niente Vabbè ognuno poi può fare le cose che vuole chiaramente Allora oggi ragazzi faremo gli scherzoni Al nonno vecchione Perché oggi siamo insieme praticamente Ho spostato Nick così e detto Oh adesso scherziamo nonno Vieni qua Nick che ti do la pozione di invisibilità Ok molto bene Arbero lo scudo No no un attimo non ci siamo capiti Ma che caspita hai detto tu? Cioè tu hai detto Cosa vuol dire? Non lo so non mi ricordo cosa stavo dicendo Ah ok vabbè Comunque speriamo che non abbia le particelle Però Eh infatti ma guarda quel vecchio Non sa nemmeno come si attivano le particelle Quindi secondo me non ce le ha Però allora sta spaccando un albero Dobbiamo fare gli scherzoni Cosa vuol dire mi hai perso? Ah vabbè certo grazie al cavolo Allora tengo tipo le torce in mano Così almeno Però ho paura che mi vede capito Eccoci sono da te vai vai Ok bene Allora no 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 Quando non parlo io devi rispondermi subito Ok va bene va bene Ok bene Sono contento per te Ma cos'era sta roba? Non ne ho idea Allora c'è un nonno No no mi sa che vede No ha visto secondo me ha visto le torce Allora facciamo così In teoria così non si vedono Vedete non si vedono ragazzi Perché praticamente io ce l'ho tipo sull'albero Non si vedono in realtà Ma perché sta rompendo roba? Non ne ho idea Probabilmente Infatti questa cosa non dovrebbe Però iniziamo a dargli i colpetti Tipo Ma io ho paura Allora questo vecchio praticamente Si arrabbia quando succedono queste cose Quindi ho paura Che tipo gli passi qualcosa per la mente Non lo so Vabbè comunque Cerchiamo di Ecco No perché sta facendo Sta rompendo le cose È impazzito Non lo so Sto incasinando perché io lo devo prezzare Ragazzi Ma che sta facendo Ma è impazzito È un vecchio pazzo Eh mi sa di sì Guarda 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 È arrabbiatissimo Porca miseria Ma è un fire Si sta tutto arrabbiando Ma è letteralmente Letteralmente on fire Ma no ma infatti Mi fa paura Lei ha ammazzato Nicola è ammazzato Oh mio dio Non dovevi farlo E adesso come come fa A parte scusa ma Spera una faspera Come mi giustifico No sta spaccando tutto E' arrabbia Cosa sta facendo Cosa sta facendo A casa tua le coltivazioni No 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 Le mie coltivazioni No No perché È triggeratissimo C'è una roba pazza Guardalo Guardalo Ma che sta facendo Ma è un vecchio pazzo Non lo so Aia aia Mi ha picchiato Mi ha picchiato Allora cerchiamo Allora Ok allora No stavamo in casa mia No no le TNT Stavate sono le TNT No no Questo qua sta fuori di testa No no È fuori di testa Fermo una No fermo Questo qua sta fuori di testa No no L'ho ucciso Ma l'avevi fuori di testa No 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 Non ridere più Non c'è da ridere Ma sto qua sta fuori Ma sta piacendo Mi stavendo per non piangere Ma adesso dove è spawnato Allora andiamo No no Mi ha picchiato Una fermo No 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 sto griffando È un pazzo È un pazzo È un pazzo Io sono pure morto Raga ma stiamo scherzando Oh mio Dio No mi ha griffato L'entrata Allora scusate ma non so Ma è un pazzo Un pazzo Un pazzo Oh Nick Tu lo stai vedendo Sì lo sto vedendo Ma mi ha griffato la casa Però Ma ho visto Allora questo qua sta fuori Cioè io te l'ho detto Ma io sono stra arrabbiato con lui Ma poi stiamo facendo giocare Eh no infatti Ma veramente Stiamo facendo giocare Cioè Non lo so Stiamo prendendo la casa A chi Questa qua A Rosy A Rosy sta Ma è un griffo Cioè scusami Questo è diventato Un video di spiaggia Nonno invece No esatto Ma secondo te Pensa che tipo ci sono Dei fantasmi E quindi Facendo esplodere Cioè io poi Nel prossimo video Voglio solo No aspetta sto per morire Voglio sapere Ma insomma Ma pensa che questa sia Una giustificazione Cioè tipo Tipo sia una Un modo di risolvere le cose Ma no no ma non è morto Si è sceso da solo Ma cosa stai facendo poi Sì ma tanto rispona qua Allora praticamente Ma perché stai facendo Questa cosa Allora non lo so Però io ti ho detto una cosa Ascoltami quando parlo idiota Concentrasi sul parlare Ok E sul E sull'ascoltare E allora praticamente ho detto Ma pensi che tipo Lui pensa che risolva Qualcosa in questo modo Che tipo ci sono i fantasmi Ah non lo so Ma sto ancora piazzando TNT Cioè se pensa così È veramente Da ospedale psichiatra Però No esatto Vabbè È anche vecchio eh Però c'è Madonna Pensavo fino a questo qui Cioè Ma ha rotto Totalmente Tutto Ma sto qua è fuori Pure la povera casa di Gabri Ma no Ma lui cosa c'entrava Tra l'altro Infatti non lo so Ma perché Per tutta l'invisibilità Allora Infatti allora Anche se avesse capito Che tipo Gli stiamo cercando Di fare uno scherzo Praticamente Non avrebbe mai deciso Cioè nel senso Se fosse stato normale Non avrebbe mai deciso Di far esplodere la casa di Gabri Esatto Sono un po' esagerata comunque È anche la tua O nel caldo il mio castello Esatto Non andiamo al tuo castello Eh no Comunque sta facendo esplodere Il tuo coso là Io devo dire Va bene Fa bene Fa bene È da distruggere Esatto Fa benissimo Guarda Per questo motivo qua Lo stimo adesso Perché Gli sono stati assolti Tutte le sue colpe No però Ma è vero Ah seriamente Scusami ma Oh mio dio Eh vabbè Quanto Oh mio dio Ma è un colabrodo adesso No si Cosa vuol dire Un colabrodo È un morbidire Che schifo No ma guarda Ma è più brutto di te No scherzo Allora praticamente No non ti offendere Stavo scherzando Invisibilità Lui ci ha visto Eh lo so Stai un attimo addormentando Ah Ma io tanto l'animatura Perciò non muoio Aspetta ti poi scrivo Ma cosa fai Brutto Però non vedo cosa scrive Dimmi cosa scrive Brutto vecchio Ok Ha scritto Esplodete Ma perché Che digli perché Che sta ridendo Ma è impazzito Allora chiedigli perché Allora se risponde una cosa Non senso Io mi 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 Oh mio dio Ma lo so per insultare Io ti giuro Cioè da qua nasce una serie Ragazzi se risponde una cosa Non senso Per vedere le pazzie di nonno Esatto No ha scritto una cosa Che non so se si può dire No dimmela in modo Ha scritto Siete stron Eh ma perché Cioè allora Che digli Non lo so Perché c'è Che digli perché Allora io Sinceramente spero Che dica una cosa non senso Perché se dice una cosa non senso Cioè senza senso Praticamente nasce una serie da qua Quindi cioè dovrebbe dirlo Cioè non è che dovrebbe dirlo Allora praticamente Capiamo che è fuori di testa Quindi faremo altri video Di lui che è pazzo Cioè ci starebbe secondo me Perché le ho spaccato il letto Ma quando non è vero Che le ho spaccato io Eh ma scusa Ma quindi sta facendo esplodere Questa cosa Ok e non Cioè così a caso Tra l'altro Ma infatti Ma no scusa Ha scritto perché Mi ha spaccato il letto Sì Ok e non Non ha totalmente senso Perfetto Esatto Inizierà una serie Ragazzi Se no scrivetemi voi Nei commenti Se volete una serie Da questa cosa Io Ma è il tuo castello No eh No Ti 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 ha netti fuori No 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 Ti tiro la freccia No 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 porca È partita Lo detesto No il tuo castello Che ti ho fatto io Il castello Ma è fuori di testa Ma Nick Ma è pazzo Ma scusa ma davvero ha scritto Poi chiedi Cioè cosa c'entra questo Perché sta facendo esplodere tutto quanto Cioè nel senso Non mi sembra una motivazione valida Capito Cioè è questo che intendo dire Sto scrivendo Ok 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 Poi dopo mi leggi cosa mi scrive Cioè nel senso Scusami eh Ma capito Cioè mi sembra totalmente fuori di testa eh Cioè adesso dobbiamo capire cosa ragazzi Insieme Dobbiamo capirlo Ma sta ridendo Ma vedete che è fuori di testa Allora scrivetemi voi ragazzi Nei commenti Se volete vedere che Nasce appunto una serie Da questa Da questa vicenda qua È un vecchio pazzo questo Cioè dobbiamo No secondo me dobbiamo recuperare Dato che il nostro amico Ma sta ancora esplodendo Allora ascoltami eh Dato che il nostro amico Praticamente dovremo recuperarlo In un qualche modo Dobbiamo parlargli Dobbiamo fargli capire Che ciò che sta facendo È da fuori di testa un pochino Perché per un letto Far esplodere tutto quanto Mi sembra esagerato No no non puoi capire adesso Cosa ha scritto Cosa ha scritto Ha scritto Sono l'erede creeper Ma è davvero Sì Ti giuro Ma o sta trollando Sapendo che c'è il backup Cosa che non gli ho detto ovviamente E infatti questa cosa Lo sta facendo senza Appunto Ma lo uccido Cioè ma che cacchio sta fa No veramente Cioè Lo dovresti uccidere Ma è pazzo Anzi Uccidiamolo per un attimo Perché c'è No ma il tuo castello Ormai non c'è più Ma vabbè Poi per fortuna Lo sistemo io Tranquillamente Non so perché sto balbettando Non sono normale Secondo me Però Dove è finito Dove è finito questo È anche colpa tua Ma che senso è colpa Cosa stai dicendo Perché non l'hai tenuto a bada Per quello Cioè Non sapevo che fosse pazzo Cioè scusami Dice che il re dei creeper Ma comunque è allo spawn È allo spawn Ok Allora dobbiamo ritornare Sì però che palle Cioè fuori di Ma ti rendi conto Cioè ragazzi Sì lo so Scusatemi ma davvero ragazzi Cioè ditemi voi Ma perché sto facendo sta roba Tra l'altro Ma non è normale Non lo è Non lo è affatto Ma ditemi voi ragazzi Cioè secondo voi Che cosa ha veramente Perché Dire che il re dei creeper O è veramente impazzito E in questo caso Vabbè lo spiremo Un altro po' Oppure magari Magari può essere Che tipo È arrabbiato con noi Perché ha capito Che lo stavamo facendo gli scherzi Però mi sembra Cioè non lo so Ce l'avrebbe detto Perché sto funnando Ma che sto facendo Ma tu dire Ma perché ci sono dei fulmini C'è il sereno Ma non lo so Appunto Raga Non lo so Non lo so Non lo so Ok io No le tntci Non deve tntci là Dov'è lui? Cioè è talmente Tanto arrabbiato Capito Che sta facendo venire Il fulmine Questo che sta cercando Di dirci Lo sto uccidendo Ma Oh mio dio Ma cosa sta succedendo Scusate Ma è pazzo Ma è pazzo È pazzo Comunque tu Non ti sei proprio irregolare Cioè tu adesso Stai parlando troppo Ma lo so Ma non c'è Ma perché io sono scioccato Vabbè lo so Però Un attimo Stai tranquillo Cioè comunque Ancora Ancora Basta Ancora Ancora sta esplodendo Mio dio Allora se tu Allora Nick Se succede un'altra volta Che ti interrompi E dici venti volte La stessa frase Ti uccido No scusa Vabbè Perché non puoi uccidere Perché sono immortale Però Cioè Va bene Ok Allora se lo dici tu Tranquillamente No fermo Non il comando No No ma tranquillo Sei immortale quindi Eh sì Con il comandino È tutto facile Ancora Non c'è lo spawn Ma ha spawnato Non ci voglio Ma sto qua Sta fuori di testa Ma raga Ma c'è Ma per favore Ma chiamiamo un dottorino Magari Cioè A sto punto Non lo so Basta E tnt Ma Lo sto facendo Mio dio Ho fatto esplodere Un pochino comunque Non per dire Ah sei morto Sì Ma sono nato dei blaze Ti fa ridere sta cosa Scusa Come ti permetti Non dovresti ridere Eh ma per te sei te Perciò fai ridere Il mio re E poi Il mio re Io sono il re E sono esplodo Cosa vuoi Dimmi Sì sì La re E beh Comunque Aspanto dei blaze Dimmi Che ero tre palle Ma santo Ma se Allora tu Uno deve aspettare 20 ore Che tu dici le cose Uno magari che Una persona povera Che sta guardando Il video Poverina Povero Povero signore Che sta guardando Povera signorina Povero signore Che sta guardando Ma non è colpa mia Sono un po' stupido E tu devi stare E tu devi stare Comunque E poi Zitto Non dice più Comunque E non Basta Ma ti pare normale Questa cosa Nick Ma no che non mi pare normale E allora Lo devi fare o no Cosa Aspetta Ah io pensavo di nonno No Stavo parlando con te Hai detto comunque Ah ok Puntini puntini Ah scusa E niente ragazzi Sono stupido infatti Scrivetemi cosa ne pensate Nei commenti Per favore Perché qua Dobbiamo capire bene Il segreto del Nonno vecchio